La vittoria era qualche mese che lottavamo sempre tutte le partite e nei finali spesso le partite scappavano. Sono contento perché i giocatori sono stati veramente seri questa sera come lo sono stati in tutto il campionato, hanno fatto una partita con orgoglio, quindi sono molto contento per questo, al di là del risultato statistico, ci voleva una vittoria, sono molto orgoglioso che hanno fatto questa vittoria qui a Roma. Siamo in una società seria, quindi sono orgoglioso della partita che ha fatto la squadra. Dal punto di vista cestistico, dal punto di vista della paracanestro, noi ci occupiamo di questo. Per quanto riguarda invece l'aspetto che ho uscito sul giornale, sappiamo tutti come il nostro Presidente ha indicato, facendo anche un forum il mese scorso a Casale, imitando Presidente di Lega, quali sono i pensieri. Quindi diciamo che rimetto lui quello che è il suo pensiero, la sua filosofia, perché lo sappiamo benissimo tutti quali sono le tempestabilità con le quali la Lega deve e può intervenire. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, ripeto, sono molto contento della partita che hanno fatto i miei giocatori. Per l'ennesima volta hanno dimostrato di avere attaccamento alla maglia e di giocare sempre con orgoglio su tutti i campi.